Capitolo 6 Dentro la Materia Parte III. La tavola periodica degli elementi La tavola periodica degli elementi Nel XIX secolo erano conosciuti molti elementi chimici, tuttavia, nessuno riusciva a trovare un modo per ordinarli in una maniera coerente. Questo perché quando ci sono una serie di scoperte, una serie di dati, la scienza cerca sempre di trovarci un ordine per descriverli. Sugli elementi chimici questo ordine non si riusciva a trovarlo. Questa situazione è andata avanti fino alla seconda metà del XIX secolo, quando due grandi scienziati, Mefer e Mendejev, imboccarono la strada giusta per portare a una descrizione teorica di questi elementi, cioè a trovare un modo con cui organizzare questi elementi in modo tale che si avesse davanti un quadro coerente della situazione. Il primo a classificare, uno di questi è nel 1970, il chimico tedesco Mefer pubblicò un modello di tavola degli elementi. Tuttavia, anche se non era a conoscenza, Mendejev nel 1869 l'aveva preceduto e aveva pubblicato una prima versione della sua tavola periodica. In queste tavole periodiche gli elementi erano ordinati in righe e colonne in ordine di peso decrescente, in modo tale che appartenevano alla stessa colonna gli elementi che presentassero caratteristiche chimiche simili. In questo modo si era trovato un modo per ordinare questi elementi. Però Mendejev andò molto oltre quello che può essere una normale catalogazione di elementi anche in una tavola coerente come la SUPA. Perché è andato oltre? Perché ha trovato un modo teorico per sistemare i buchi mancanti, come vedremo fra un po'. In questa immagine vediamo Mefer e in quest'altra immagine vediamo una fotografia di Mendejev. Cosa presentava la tavola di Mendejev e che ha attratto l'attenzione di tutti? Era degli spazi vuoti. Ma questi spazi vuoti non erano vuoto e basta, cioè vuoto nel senso che lì non c'era niente. Lo spazio vuoto aveva molta più importanza di quelli pieni. Lo spazio vuoto significava elemento che andava lì e che ancora non era stato scoperto. Quindi lo spazio vuoto non diceva, dice guarda, forse un domani questo spazio verrà ricoperto, se c'è qualcosa, se non c'è qualcosa rimarrà vuoto. No, la tavola di Mendejev diceva che esisteva un atomo che andava a occupare quel posto lì e che doveva essere scoperto. Questo significa che la tavola periodica di Mendejev non era un semplice modo di catalogare gli elementi. Era un'autentica teoria scientifica perché faceva predizioni e queste predizioni riguardavano cose non ancora scoperte. In pratica Mendejev diceva molto semplicemente che nel suo modo di ordinare gli elementi c'erano dei buchi. Questi buchi dovevano essere riempiti da elementi che ancora non si conoscevano. È una grossa conquista, è una grossa verifica, è una grossa scommessa che una tavola fa. Quindi dell'esistenza di qualche cosa nessuno ha scoperto ma che sicuramente esiste. Poi andava ancora oltre questa scoperta. Diceva che quegli elementi che andavano scoperti dovevano avere delle caratteristiche ben precise e perciò la tavola dava indicazioni su come cercare questi elementi e dove cercarli. Cioè come fare a capire che quell'elemento andava lì. Bastava andarla a cercare come seguendo le caratteristiche doveva avere. Se si trovava un elemento con quelle caratteristiche probabilmente quell'elemento avrebbe occupato quel posto vuoto. È una cosa che ha fatto di Mendejev il più grande chimico insieme a Lavoisier. Quindi Lavoisier e Mendejev sono sicuramente i padri della chimica moderna. E Lavoisier è stato molto più importante nel fare la sua tavola periodica in passato di quando non sia oggi. Perché oggi l'abbiamo lì bella e pronta e si fanno solo degli esperimenti per cercare di trovare elementi artificiali che in natura non esistono. In realtà si poteva andare. La tavola di Mendejev nel 1800 era un autentico patrimonio che gli scienziati avevano per cercare nuovi elementi. Entrambe le previsioni ebbero successo. Quindi Mendejev divenne uno dei più grandi scienziati di fama mondiale e ancora oggi viene considerato, ripeto, uno dei più grandi chimici che si hanno mai esistiti e che abbia portato maggior beneficio alla sua disciplina. Come facciamo a vedere questo? Andiamo a vedere questa tabella. In questa tabella viene preso in considerazione l'elemento chimico numero 32. C'era un bel buco. Questo buco però non era bianco e bassa. Questo buco aveva delle previsioni molto semplici. sulla massa atomica, sul volume atomico, la densità, il punto di infusione, formula dell'ossido, aspetto dell'ossido, formula del cloluro, eccetera, eccetera, come si può vedere dalla tabella qui che vediamo davanti. Nella seconda colonna ci sono le previsioni di Mendejev e nella terza colonna la verifica sperimentale dell'elemento che ha preso il nome di Germano che è del 1886. Cioè Mendejev ha predetto quali erano le caratteristiche del Germano esattamente 17 anni prima che questo elemento venisse scoperto, venisse analizzato e avesse una forte corrispondenza con quello che lui aveva detto. La densità è la stessa, il volume atomico è la stessa, la massa di radio è la stessa, l'unico dato che differisce di più è quello della densità che passa da 4,7 a 4,2, ma praticamente tutto il resto è praticamente identico, perciò è una previsione che si è verificata. E questo è il fatto che ha convinto gli altri ad inserire Mendejev come uno dei più grandi scienziati del XIX secolo, praticamente da mettere a fianco a personalità come Darwin, come importanza per la scienza. E' sempre importante dire dove si prendono le notizie, queste notizie sono state prese da un libro di Gimignano, la materia in formule e il paragrafo era il sistema periodico degli elementi. Queste sono ciò che fanno la scienza, queste sono le conquiste che fanno della scienza una disciplina completamente diversa da qualsiasi altra. Cioè la possibilità di fare predizioni e verificare una cosa che si verificerà in futuro. Una cosa di questo genere è praticamente stata la teoria della realità generale di Einstein che ha fatto previsioni di questa portata. Per questo, da questo si capisce immediatamente l'importanza di Mendejev. Dalla struttura della tavola periodica si può comprendere il modo in cui i vari atomi si combinano e questa è già un'indicazione su uno sviluppo futuro, cioè su come sono disposti gli elettroni all'interno degli atomi, perché quando due atomi si combinano, vedremo, si combinano gli elettroni degli orbitali esterni, quindi la posizione di un elemento in una tavola periodica dava indizi su quello che erano gli elettroni degli orbitali esterni. Pertanto questa era estremamente importante, perché quest'altra previsione sugli orbitali esterni è quella che verrà verificata nel XIX secolo quando si andranno a studiare i comportamenti degli atomi, come sono riempiti gli orbitali atomici e dove stanno gli elettroni. Praticamente questo qui, la tavola periodica, ha dato un indizio per quello che abbiamo visto precedenza, cioè sul riempimento degli elettroni sugli orbitali. L'attuale tavola periodica conta 118 atomi, di cui 92 sono naturali e 26 artificiali, cioè gli elementi transuratici ottenuti in laboratorio. Il più pesante è l'unucotium, che praticamente è quello che ha 118 protoni, cioè il numero atomico Z è uguale a 118. In questa tavola si vedono alcune cose interessanti. Innanzitutto abbiamo sette righe orizzontali dette periodi. Si chiamano periodi perché dopo un po' gli atomi ripetono con le stesse caratteristiche. Gli atomi hanno le stesse caratteristiche e determinano le colonne. Sono otto gruppi. Queste otto colonne però non sono tutte attaccate. Fra la seconda e la terza colonna c'è uno spazio. Questo spazio è occupato da un certo numero di elementi, detti elementi di transizione. Poi abbiamo altri due sottogruppi, sono i sottogruppi dei lantaniti e degli attiniti. Praticamente in questa colonna li vediamo tutti. Tutto ciò che c'è da vedere. Vediamo che da una parte ci sono i metalli, sulla sinistra. Nell'estrema destra ci sono i non metalli. La colonna azzurra è quella dei gas nobili. Poi abbiamo in verdino, verdeacqua, gli elementi anfoderi, cioè che si comportano sia come metalli che come non metalli. Poi abbiamo al centro il blocco dei metalli di transizione e in basso abbiamo i lantaniti e gli attiniti. Praticamente questo vi dà un aspetto della tavola periodica. Vediamo che questa tavola è limitata al numero 103 che significa che il Neptunio, il Plunonio, l'Americio e il Curio sono praticamente dei elementi che sono artificiali, sono stati i primi ad essere scoperti. La tavola periodica assegna un posto ad ognuno degli elementi scoperti. I metalli si trovano a sinistra e i non metalli a destra. Elementi con proprietà simili sono raggruppati insieme in colonne. Ma gli elementi non sono sempre stati raggruppati in questo modo. Nel 1869 il brillante scienziato russo Dimitri Mendeleev ha gettato le basi della moderna tavola periodica. Egli era un fanatico giocatore di carte. Il suo gioco preferito era il solitario. Al tempo di Mendeleev erano stati scoperti 63 elementi ma gli scienziati non riuscivano a trovare un accordo su come organizzarli in modo utile. Mendeleev Un gruppo era quello dei non metalli reattivi floro, cloro, bromo e iodio. Un altro gruppo era quello dei metalli reattivi sodio, potassio, rubidio e cesio. Mendeleev era convinto che esistesse un modello complessivo. Cercò di organizzare le carte in diversi modi. Ma dopo tre giorni e tre notti ancora non aveva trovato una soluzione. Esausto, si addormentò. Miracolosamente, in sogno vide il modello che stava cercando. La soluzione di Mendeleev consiste nel sistemare gli elementi in colonne in ordine di peso atomico. Così facendo, gruppi di elementi simili possono essere raggruppati nella stessa riga come i metalli alcalini e gli alogeni. Le proprietà degli elementi si ripetevano in una serie di combinazioni periodiche ed è per questo che ha chiamato lo schema tavola periodica. Mendeleev era così convinto che il suo modello fosse corretto che lasciò alcuni spazi vuoti e questo fu il suo colpo di genio. Pensò che esistevano tanti altri elementi da scoprire che avrebbero riempito quei vuoti. Addirittura predisse le proprietà di questi elementi sconosciuti basandosi sulla loro posizione nella sua tavola. Se la tavola poteva realmente essere usata per prevedere l'esistenza di questi elementi allora gli altri scienziati avrebbero dovuto riconoscere che le idee di Mendeleev erano giuste. Sei anni più tardi fu scoperto un nuovo elemento chiamato gallio. Il suo peso atomico era quasi esattamente lo stesso previsto da Mendeleev. Questo accadde di nuovo con altri due elementi che avevano riempito quei vuoti. Da allora la tavola di Mendeleev fu accettata dagli scienziati. Oggi lo schema della tavola periodica è leggermente diverso. Mentre Mendeleev aveva ordinato la sua tavola in colonne quella moderna è ordinata in righe. Mendeleev conosceva poco più di 60 elementi. Oggi ne conosciamo più di 100. Ognuno con il proprio posto sulla tavola periodica. Ai nostri giorni gli elementi sono scritti in ordine di numero atomico e non di peso atomico. La posizione di ogni elemento in questa tavola permette di prevedere le sue proprietà. adesso andiamo a vedere abbiamo dei metalli. Abbiamo detto che nella parte sinistra che troviamo i metalli andiamo a vedere quali sono le caratteristiche di questi metalli. Come abbiamo detto occupano la parte sinistra della tavola periodica a un certo punto abbiamo detto che ci sono i metalloidi poi nell'estrema destra abbiamo la colonna dei gas nobili e in alto a destra abbiamo i non metalli. Ma cosa distingue i metalli? I metalli si distinguono per alcune caratteristiche particolari. Innanzitutto salvo il mercurio a tempo l'ambiente sono tutti soliti. Hanno sono lucidi e splendenti cioè quando li vediamo nell'aspetto li vediamo un aspetto lucido e splendente hanno un alto punto di ebollizione fanno eccezioni gli elementi alcalini che sono vicini ai 100 gradi poi sono duttili cioè possono essere ridotti in fili sono malleabili cioè possono essere ridotti in fogli sottili ed infine sono conduttori di elettricità e di calore. queste caratteristiche sono tutte le caratteristiche che hanno questi elementi che si classificano fra i metalli se noi andiamo a vedere come si trovano in natura in natura si trovano spesso combinati ma a volte si trovano in forma elementare come possiamo vedere in questi cristalli di oro oppure in questa pepita di rame in questi cristalli di argento ed infine in questi cristalli cubici di di platino i non metalli hanno chiaramente caratteristiche opposte ai precedenti a temperatura ambiente sono la maggior parte si trovano allo stato liquido o gassoso tranne alcuni come carbonio zolfo e silicio che sono soliti sono opachi hanno bassi punti di infusione e di ebollizione sono pessimi conduttori se facciamo se facciamo eccezione del carbonio non sono né duttili né malleabili adesso vediamoli come si possono trovare in natura questi sono dei bellissimi cristalli di zolfo siciliano qui vediamo un cristallo di di grafite che ha la tipica che a differenza ripeto il carbonio è un po' particolare a differenza degli altri elementi che ha una lucentezza metallica ripetiamo il carbonio è un non metallo un po' particolare oppure la grafite può comportarsi può trovarsi sotto forma di diamante nelle chimberliti come in questo caso adesso andiamo a vedere i nomi e simboli vediamo in una tabella che ogni atomo ha un suo nome e un suo simbolo che deriva dal nome latino andiamo a vedere questi elementi il nome latino il simbolo e come si legge l'idrogenum idrogeno deriva da idrogenum cioè simbolo H si legge H praticamente il suo nome significa generatore di acqua infatti legandosi con l'ossigeno forma l'acqua oxigeno oxigenum OO significa generatore di ossidi calcium Ca ferrum Fe questo è interessante mercurio idrargirium Hg si legge Hg idrargirium significa idra acqua grigirium argento quindi significa letteralmente acqua argentata a ricordarci che è un liquido che ha un'elevata lucentezza quindi è un liquido che ha lucentezza argente perciò il nome che fa riferimento sia all'acqua che all'argento e infine abbiamo il carbonium C simbolo C questo praticamente abbiamo visto in questo modo i simboli chimici di 6 elementi e come si leggono formule chimiche la formula chimica è una notazione che utilizza simboli e indici per dare informazioni relative alla composizione atomica della molecola praticamente quando io scrivo una formula chimica so quali atomi fanno parte di quella molecola e so anche il numero con cui questi atomi vanno a comparire nella mia molecola iniziamo con l'acqua che è quella che è più comune a cui tutto siamo abituati tutti quanti la conosciamo come il simbolo H2O ma cosa ci dice H2O H ci dice che si tratta che c'è l'idrogeno O ci dice che c'è l'ossigeno il 2 ci dice che di idrogeno ce ne stanno due e la mancanza di un indice nell'ossigeno ci dice che abbiamo un solo atomo di ossigeno si legge H2O questa è la molecola che può rappresentare la molecola di acqua vediamo il rosso è l'ossigeno in bianco è rappresentato l'idrogeno vediamo adesso il carbonato di calcio CaCO3 quindi ci dice che c'è che nella molecola c'è il calcio c'è il carbonio c'è l'ossigeno il fatto che calcio e carbonio non abbiano nessun numero significa che ce n'è uno solo l'indice 3 significa che di atomo e di ossigeno ce ne sono tre questa qui si legge CaCO3 in natura la troviamo sotto forma di calcite metano CH4 significa che abbiamo il simbolo C ci dice che c'è un atomo di carbonio il simbolo H ci dice che c'è l'idrogeno l'indice 4 ci dice che sono presenti 4 atomi di idrogeno si legge CH4 questa è la molecola in cui al centro abbiamo in grigio il carbonio e in bianco abbiamo rappresentato l'idrogeno acqua ossigenata H2O2 quindi ci dice che c'è l'idrogeno mi dice che c'è l'ossigeno entrambi sono presenti con due atomi sia l'idrogeno che l'ossigeno per cui si legge H2O2 questa è la molecola di acqua ossigenata in cui il rosso viene rappresentato l'ossigeno e in bianco l'idrogeno ripeto si tratta di colori puramente formali perché gli atomi non hanno alcun colore se in alcuni casi il carbonio si utilizza il grigio perché la grafite è grigia oppure per l'ozolfo si utilizza il giallo perché l'ozolfo ha lo stato metallico ha lo stato come si trova in natura e giallo non significa niente all'atomo non si può dare nessun colore sono dei colori simbolici che vengono messi lì per distinguere un atomo da un altro i simboli vengono usati nella scienza da tempi molto remoti gli alchimisti li usarono per rappresentare la terra l'aria il fuoco e l'acqua le sostanze base da cui ritenevano che fossero composte tutte le altre cose e altri simboli indicarono altre sostanze quando John Dalton sviluppò la sua teoria atomica usò simboli come questi per rappresentare gli atomi di elementi diversi questi sono i simboli moderni degli elementi chimici tali simboli sono abbreviazioni dei loro nomi I per esempio sta per iodio S per zolfo C per carbonio talvolta i simboli sono abbreviazioni di nomi latini Fe sta per ferrum la parola latina che indica il ferro Cu sta per cuprum il modo di dire rame in latino Na sta per natrium il corrispondente latino di sodio un simbolo può rappresentare solo un atomo di un elemento così questo rappresenta un atomo di elio Il gas elio è composto da molti singoli atomi In natura la maggior parte delle sostanze esistenti non sono formate da un atomo ma sono combinazioni di più di uno di questi Due atomi di idrogeno formano la molecola del gas idrogeno I chimici la rappresentano con una formula costituita da un simbolo che indica l'elemento e da un deponente che indica di quanti atomi è composta Non tutte le molecole sono costituite da appena due atomi Una molecola di zolfo ne ha otto La sua formula è S8 Le formule sono usate per rappresentare non solo molecole di elementi come lo zolfo ma anche molecole di composti combinazioni di diversi elementi formate dalle reazioni chimiche Quando lo zolfo brucia combinandosi con l'ossigeno si forma il composto biossido di zolfo SO2 La formula spiega che zolfo e ossigeno sono combinati in un rapporto di un atomo di zolfo ogni due di ossigeno di di ossigeno di di ossigeno di di ossigeno SO2 La formula dell'acqua H2O dice che due atomi di idrogeno sono combinati con un atomo di ossigeno in ciascuna molecola H2O Perché scriviamo H2O invece di OH2 perché è una questione di abitudine Abbiamo altre consuetudini per scrivere i nomi dei composti che possono essere divisi in tre categorie Acidi Basi E sali Questo è un semplice sale il cloruro di sodio il sale da tavola Come tutti i sali semplici è una combinazione di un metallo con un non metallo Convenzionalmente si scrive la formula di un sale con il simbolo del metallo per primo sodio in questo caso poi il non metallo cloro cloruro di sodio Questo è acido cloridrico che si forma quando del cloruro di idrogeno che è un gas si scioglie nell'acqua Il cloruro di idrogeno è composto da due elementi idrogeno e cloro L'idrogeno è presente in tutti gli acidi e nella formula di questi il suo simbolo è scritto per primo Questa è la formula di una base l'idrossido di sodio Come tutte le basi anche questa contiene un atomo di ossigeno e uno di idrogeno che agiscono come un'unica entità nella reazione chimica Un gruppo di atomi che agisce come una unità è un radicale Questo è un OH o radicale idrossile In una base il simbolo del radicale OH è scritto per ultimo NAOH Forse l'uso più importante dei simboli e delle formule è nella descrizione delle reazioni Riscaldando un miscuglio di zinco e zolfo si produce una reazione che ha per risultato un composto il solfuro di zinco La reazione si può descrivere così Il simbolo dello zinco ZN Poi un simbolo di più che semplicemente significa più o reagisce con Ancora dopo il simbolo dello zolfo S E quindi una freccia che indica da o produce Infine la formula del solfuro di zinco ZNS Quella che abbiamo è un'equazione chimica Zinco più zolfo produce solfuro di zinco Ogni atomo che reagisce compare nel composto finale Gli atomi non si acquistano e non vanno persi durante le reazioni chimiche Quando è richiesto del calore in una reazione si segna un triangolo sopra la freccia Quando il prodotto della reazione è un gas ciò viene indicato da una freccia rivolta verso l'alto Qui il gas idrogeno H2 è un prodotto della reazione fra zinco e acido cloridrico Talvolta nelle reazioni tra soluzioni viene prodotta una sostanza insolubile stabile Un materiale di questo tipo è un precipitato che viene indicato con una freccia rivolta verso il basso dopo la sua formula Qui il precipitato cloruro d'argento a GCL è uno dei prodotti della reazione fra nitrato d'argento e cloruro di sodio Questa equazione esprime la reazione Questa equazione spiega cosa accade quando lo zolfo si combina con l'ossigeno Nell'equazione si rende conto di ogni atomo In ognuna delle due parti troviamo un atomo di zolfo e due atomi di ossigeno Ma osserviamo questa reazione Quando il magnesio reagisce con l'acido cloridrico si producono cloruro di magnesio e gas idrogeno è questa la reazione che ha avuto luogo Su un lato c'è un atomo di idrogeno sull'altro ce ne sono due Di qua c'è un atomo di cloro e da questa parte ce ne sono due Se diamo per scontato che il numero degli atomi debba essere uguale a destra e a sinistra allora qui non abbiamo la rappresentazione esatta di ciò che è successo Questa non è un'equazione Per diventarla richiede un accorgimento che si indica con il termine di bilanciare l'equazione Ma in realtà noi stiamo completando l'equazione e riusciamo a farlo aggiungendo a sinistra un'altra molecola di acido cloridrico HCl Due molecole di acido cloridrico reagiscono con ciascun atomo di magnesio Lo rappresentiamo mettendo un 2 davanti alla formula dell'acido cloridrico 2HCl più Mg producono MgCl2 più H2 Ora ogni atomo ha la sua ragion d'essere I tipi di formule che abbiamo visto fino ad ora hanno uno svantaggio Non mostrano come i modelli il modo in cui gli atomi sono legati in una molecola Ma talvolta le disposizioni sono importanti Per esempio qui ci sono tre composti del carbonio Ognuno ha proprietà fisiche e chimiche differenti eppure hanno tutti la stessa formula generale C4H6O2 ma la formula scritta non ci spiega che è la disposizione dei vari atomi a rendere i tre composti completamente diversi fra loro Per rappresentare la posizione degli atomi i chimici hanno inventato le formule di struttura Guardiamone una In ciascuna formula vediamo rappresentati quattro atomi di carbonio 6 di idrogeno e 2 di ossigeno Ogni trattino rappresenta un legame chimico formato da due elettroni condivisi Questo tipo di rappresentazione è specialmente importante per scrivere le formule di certi composti del carbonio nei quali abbiamo bisogno di simboli che indichino non solo il numero degli atomi ma anche la loro posizione Le formule di struttura indicano la disposizione degli atomi mettono in evidenza le differenze di struttura che rendono certi composti capaci di reagire in maniera diversa Quello che abbiamo visto è solo un assaggio Se andrete avanti nello studio della chimica userete molti altri simboli ancora per le formule e le equazioni chimiche che descrivono gli elementi i composti e le reazioni di un'esercizio di un'esercizio di un'esercizio di un'esercizio di un'esercizio